a tu per tu ospite questa settimana il consigliere della Lega David Moranduzzo grazie di essere con noi grazie a voi allora iniziamo a conoscerla sappiamo che a Trento lei ha già fatto una trafila politica consigliere circoscrizionale a Gardolo consigliere comunale a Trento poi il Balzo il consiglio provinciale lo scorso 21 ottobre però diciamo così tutto il Trentino, tutta la regione vogliono conoscere che è David Moranduzzo allora come nasce la passione per la politica? allora la passione per la politica nasce quando un mio amico mi invitò a partecipare ad una manifestazione a Milano quando c'era ancora il governo Prodi io ho scesi con lui e mi feci subito cominciai subito a fare parte di questo gruppo il gruppo giovani della Lega quale ovviamente ringrazio e saluto da lì decisi di andare avanti fui candidato alle elezioni della circoscrizione nel 2009 veni eletto poi dopo in comune nel 2015 e poi nel 2018 in consiglio provinciale ecco qual è stata l'esperienza in consiglio circoscrizionale? è stata un'esperienza interessante? beh è stata un'esperienza importantissima credo che bisogna fare la gavetta partire dal basso e arrivare all'alto anche perché lì cominci a capire un attimino come si muove la politica e cosa bisogna fare le cose più importanti che ho fatto in quegli anni da consigliere circoscrizionale sono i gazebo e soprattutto l'ascoltare le persone essere una persona all'interno della comunità essere all'interno delle associazioni far parte delle associazioni collaborare assieme alle associazioni e poi ovviamente portare i documenti le proposte all'interno del consiglio circoscrizionale il salto del comune a Trento lei era piuttosto battagliero sul tema della sicurezza della periferia com'è stato il consiglio comunale a Trento? il consiglio comunale di Trento è stata una bellissima esperienza è durata poco perché ovviamente sono rimasto all'interno del comune di Trento solo due anni per cui ovviamente l'esperienza è stata importante il comune e la circoscrizione sono due cose abbastanza diverse ma comunque l'impegno c'è sempre stato per cui ho sempre portato avanti l'impegno ho sempre partecipato alle varie manifestazioni del territorio sono sempre stato in mezzo alla gente ho sempre portato i loro documenti all'interno del consiglio circoscrizionale prima del consiglio comunale ropo e oggi cercherò di portare tutte le loro esigenze all'interno del consiglio provinciale consiglio provinciale qual è stato l'impatto com'è stato l'impatto con un'assemblea che è legislativa in questo caso? l'impatto è stato lo stesso impatto che ho avuto in circoscrizione perché non avevo esperienza prima è stato lo stesso impatto che ho avuto in consiglio comunale ovvio che è un attimino più impegnativo ci sono esigenze ci sono problematiche da portare avanti che sono totalmente diverse dalla circoscrizione del comune però l'impegno, il mio impegno l'impegno che ho chiesto e mi è stato chiesto dalla gente c'è e cercherò di fare il meglio per soddisfare tutte le esigenze del cittadino quali sono i temi sui quali lei si dichiara impegnatissimo con questo superlativo quali i temi che la fascinano di più e sui quali promette grande impegno? grande impegno le lo prometto a tutti nella stessa maniera ogni tema è importante da affrontare in consiglio provinciale ovvio che in questo momento da consigliere provinciale e da ex consigliere comunale porterò avanti il tema della sicurezza quello sicuramente è un tema molto importante che bisogna portare avanti il cittadino deve girare tranquillamente in tutte le zone della città in tutte le zone della provincia e deve essere tutelato dal politico e dai consiglieri provinciali che fanno parte del consiglio un segnale in questo campo in questo settore lo sta dando la giunta Fugatti che organizza le giunte sul territorio è un modo questo come accogliere gli elettori alle sette per avvicinare di nuovo le persone alla politica secondo lei? sta facendo ciò che non è mai stato fatto da nessun altro presidente del consiglio provinciale non è stato fatto dapprima da Lorenzo Dell'Ai non è stato fatto dall'ex presidente Ugrossi e per conto mio sta lavorando bene nella giusta direzione quello che chiede la gente la gente chiede l'impegno la presenza sul territorio e ahimè abbiamo visto con i risultati del 21 ottobre chi ha governato prima la provincia di Trento non ha fatto ciò che sta facendo Morizio Fugatti e la sua giunta l'ultimissima domanda perché il tempo stringe qualcosa che cambierebbe il consiglio provinciale se cambierebbe qualcosa ai tempi troppo dilatati mi dica no, per conto mio il consiglio provinciale va bene così abbiamo un'amministrazione che è capace è capace di ascoltare è capace di affrontare i problemi giustamente ci vogliono i loro tempi per risolvere tutte le richieste tutte le esigenze del cittadino ma io personalmente vedo un consiglio provinciale un po' diverso da quello di prima vedo un consiglio provinciale dei consiglieri provinciali che sono sempre in mezzo alla gente che ascoltano il cittadino e purtroppo ovviamente abbiamo tante cose da fare per migliorare la situazione visto che la giunta precedente non ha fatto per cui tante richieste che ci erano state fatte a inizio mandato dobbiamo portarle a termine allora noi ringraziamo ringraziamo David Moranduzzo consigliere della Lega e consiglio provinciale a Trento ci rivediamo con un altro ospito grazie 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 grazie